Benvenuti al nostro appuntamento quotidiano con l'informazione. Quella di oggi in apertura non è certamente la notizia di giorno, lo è in un certo senso, ma è un editoriale, un intervento proprio del direttore di Telesud. Lo spunto per questa mia presenza oggi, prima di dare la linea a Mirko Ditta, mi è dato dalla notizia che da ieri sera circola sul web, su siti dedicati allo sport, soprattutto calcio di serie C, che hanno lanciato questa ipotesi della voglia di vendere sia la società di calcio che la società di basket da parte dell'imprenditore Valerio Antonini, presidente della Sport Invest. No, ve lo devo dire, non è uno scherzo e non è nemmeno un falso scoop. Questa notizia, veicolata appunto da questo sito che si occupa di questioni calcistiche legate alla serie C di calcio, ha qualche fondamento. Valerio Antonini sta meditando di vendere le due società sportive? Mi chiedo chi glielo potrebbe impedire e perché? Lo capisco che da direttore responsabile di Telesud ciò che sto dicendovi potrà essere letto in tante maniere, anche appunto da sembrare un esercizio di fede con la F maiuscola, ma sono solito da 16 anni, cioè da quando dirigo una testata giornalistica, assumermi la responsabilità civile, penale, etica e morale di ciò che scrivo o che dico e di ciò che lascio scrivere e faccio dire ai collaboratori delle redazioni che finora ha diretto. Per cui non accalcatevi in contestazioni, sono abituato allo stress. Andiamo invece al punto odierno. L'imprenditore Valerio Antonini in un anno cosa ha fatto per questo territorio? Tanto e non è nemmeno difficile, secondo me, rendersene conto. Solo dal punto di vista sportivo alcuni potrebbero obiettare, lasciatemi dire, non sono proprio del tutto convinto che si tratti solo di questioni sportive, perché lo sport a determinati livelli non è solo hobby o passione, e forse soprattutto imprenditoria. Quanti casi conosciamo di società sportive che navigano in acque tempestose e non riescono a programmare non solo il futuro, ma nemmeno il presente della loro permanenza in questa, quella categoria sportiva, di calcio, basket o scegliete voi la disciplina. In provincia di Trapani ritengo dovremmo esserci abituati a questo status quo. Ci abbiamo fatto l'abitudine appunto negli ultimi anni, da Trapani al resto della provincia. Sport, quindi, è evidente che sia, specialmente da un anno a questa parte, a queste latitudini, sinonimo di imprenditoria, quindi di posti di lavoro, di programmazione, di risultati da raggiungere. Risultati che, vista la doppia promozione dei Granata, in special modo quella degli Shark in Serie A del basket, rappresentano un volano economico per la città di Trapani, che ha una visibilità nazionale, come poche altre volte l'era successo e di solito sempre per questioni legate alla cronaca nera. Poi però arriva, nei giorni scorsi, questa ipotesi del daspo nei confronti del presidente della Sport Inves, del presidentissimo, come lo chiamano alcuni a lui vicini, e l'imprenditore Valerio Antonini scopre che, al di là della presenza nei partervip, alle manifestazioni sportive o alle manifestazioni canore o ai parti privati, le istituzioni di questo territorio nicchiano e non prendono posizione. Non solo, mi permetto di dire, nei confronti di Antonini, ci sta davanti a questioni di natura giudiziaria, seppure in ambito sportivo ci sa lasciare fare alla giustizia il proprio corso, ma nemmeno prendono posizione a difesa di un territorio che con lo sport è tornato ad avere orgoglio e voglia di rivalsa e che invece viene bistrattato anche da quanti pure giornalisti il territorio lo vivono e lo dovrebbero difendere a spada tratta. E scopre l'imprenditore che pure le due curve del calcio e del basket lo hanno lasciato da solo, per questioni legate a un mondo, quello delle curve che non conosco approfonditamente, ma che, vi devo dire, da sportivo, da tifoso, mi hanno lasciato un po' di amarezza. Scopre quindi l'imprenditore che è umanamente sensibile, non credo si tratti di un capriccio. Scopre che è solo e che quindi forse farebbe bene ad ascoltare le sirene che negli ultimi mesi gli stanno cantando armonie incantevoli, chiedendogli di lasciare Trapani e la Sicilia per dedicarsi a territori in realtà economiche più floride ed anche probabilmente più pronte a rispondere reattivamente alla sua visione imprenditoriale fatta di calcio, di basket e non solo. Antonini quindi si guarda attorno, è la città, le istituzioni invece dove stanno guardando? Paura e polemiche, blocchi di cemento in via San Barnaba nel territorio di Edice e Casa Santa hanno impedito l'accesso dei mezzi di soccorso, mentre l'incendio di Sterpaglie lambiva le case invase dal fumo. Trasporti, la protesta dei sindacati, dopo la sospensione delle trattative in ATM Trapani i lavoratori proclamano lo stato di agitazione scure sui comuni siciliani sono 147 gli enti che sono stati commissariati per la mancata approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 ovazione per allevi, il maestro compositore ha incantato Palermo con il suo concerto a Palazzo Reale e per lo sport l'ultima della stagione, domani il Trapani chiuderà l'annata alla ricerca del triplete in palio il titolo di Campione d'Italia Serie D contro il Campobasso l'evoluzione professionale a Trapani, il 19esimo congresso regionale di medicina generale ne parleremo nell'approfondimento di oggi. Buongiorno e benvenuti con la prima edizione del Tg Sud iniziamo subito con quanto è successo nelle scorse ore nel territorio di Casa Santa delice, blocchi di marmo proprio in via San Barnava hanno impedito l'accesso dei mezzi di soccorso mentre le fiamme minacciavano le case. Il servizio Dopo il vasto incendio di sterpaglio che ha minacciato di aggredire le abitazioni i residenti della via Clemente e delle strade adiacenti nel territorio di Alice a Casa Santa possono tirare un sospiro di sollievo. Le loro case invase dal fumo e lambite dal fuoco sono salve. La paura però ieri mattina è stata tanta e il rogo divampato in un appezzamento di terreno incolto spinto dal vento si è subito propagato divorando tutto quello che si trovava lungo la sua traiettoria raggiungendo anche la strada che conduce a Valderice. Scattato l'allarme sono intervenuti i vigili del fuoco supportati dagli uomini della forestale e della protezione civile. I soccorritori però hanno avuto enorme difficoltà a raggiungere le zone attraversate dal fuoco in particolare la via San Barnaba dove blocchi di marmo presenti sulla strada secondo le testimonianze degli abitanti hanno impedito l'accesso dei mezzi ritardando pertanto le operazioni di spegnimento. La via San Barnaba peraltro è l'unica via di accesso al quartiere di San Giovanello Sottano. In più di una circostanza i residenti anche attraverso petizioni hanno chiesto l'intervento del comune per bonificare la strada divenuta anche ricettacolo di spazzatura. Nessuno, la denuncia, però finora ha provveduto a rimborcarsi le maniche e a liberare soprattutto la carreggiata da quei blocchi di marmo che impediscono il passaggio dei mezzi di soccorso. Ieri è andata bene, la strada però deve essere messa in sicurezza a tutela delle case e degli abitanti che peraltro non sanno ancora se è una via privata o pubblica. Poco importa però quando c'è di mezzo l'incolumità fisica di chi vi abita. Il trafficante d'arte Giovanni Franco Becchina collegato al boss mafioso Matteo Messina Denaro è il destinatario del decreto di sequestro di ingenti reperti archeologici. Servizio. La direzione investigativa antimafia, DIA, ha eseguito un decreto di sequestro emesso dal Tribunale di Trapani mirato alla confisca preventiva di beni di interesse storico, artistico e archeologico, tra questi svariate anfore di epoca tardoromana e un basamento di marmo ellenistico romano con scene mitologiche scolpite, tutti ritenuti di notevole valore. Il destinatario del sequestro è Giovanni Franco Becchina, 85 anni di Castelvetrano, noto trafficante internazionale di opere d'arte. Becchina è da anni coinvolto in vicende giudiziari legate al boss mafioso Matteo Messina Denaro. In passato fu indagato, inchiesta poi archiviata, per un progetto di furto del satiro danzante custodito a Mazzara del Vallo. Inoltre è stato accusato di aver finanziato la latitanza di Messina Denaro, suo compaesano. Nel 2017 a Becchina furono sequestrati beni per milioni di euro. Dall'attività illecita svolta del trafficante avevano parlato in passato diversi collaboratori di giustizia, perché Gianfranco Becchina doveva dare queste cose e quindi dovevano andare a finire a panicola per poi arrivare a Chiru a Messina Denaro, raccontò agli investigatori il dichiarante Grigoli, altro finanziatore del boss. Pur non riportando ad oggi condanne definitive per il reato di associazione mafiosa, le sue frequentazioni, i suoi traffici e rapporti diretti con gli ambienti della criminalità organizzata di tipo mafioso Castelvetranese rendono infatti attuale e rilevante il suo grado di pericolosità qualificata, si leggeva nel provvedimento di sequestro del 2017. La misura di prevenzione proposta dal direttore della DIA e dal procuratore della Repubblica di Palermo Maurizio De Lucia segue altre indagini patrimoniali che hanno dimostrato la sproporzione tra i redditi dichiarati e gli impieghi del nucleo familiare di Becchina. Le opere d'arte sequestrate saranno ora affidate alla soprintendenza dei beni culturali ed ambientali per rendere nuovamente fruibili al pubblico. I sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione a seguito della sospensione delle trattative in ATM Trapani. I sindacati di categoria tra cui CGL, CISL, Win Trasporti, Faisa CISAL, soggetto giuridico, Confial e OGL hanno dichiarato lo stato di agitazione dei lavoratori di ATM e SPA a Trapani. Dopo vari incontri non è stata ancora trovata una soluzione alla situazione in corso. Sono ancora irrisolti i problemi legati al clima di disagio e tensione tra i dipendenti, alle questioni sull'organizzazione del lavoro e allo stallo delle trattative per la contrattazione di secondo livello avviate nell'aprile dell'anno scorso. Le richieste di incontro con l'azienda sono state ignorate, portando ad una situazione sempre più tesa e difficile per i lavoratori. I sindacati sottolineano che nonostante numerosi tentativi di accordo integrativo, non è stato ancora raggiunto un accordo firmato. Nel frattempo la situazione in azienda è peggiorata, con i dipendenti esausti e delusi. CGL, CISL, Win Trasporti, Faisa CISAL, soggetto giuridico, Confial e OGL avvertono che, se non verranno fornite risposte soddisfacenti, saranno costretti a passare alla fase successiva, annunciando così lo sciopero. Trapari in questi giorni ha accolto più di 200 medici per il congresso regionale della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie e Servizio. Sono più di 200 i medici che in questi due giorni hanno partecipato al congresso regionale della Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie. Due giorni importanti che ha permesso di dimostrare come la Sicilia sia un modello per il rinnovamento della sanità. Siamo onorati che oggi si svolga proprio a Trapani, anche perché vede la partecipazione di molti colleghi, molti medici, è un congresso regionale. Questo congresso perché è importante? Perché in un momento di grave difficoltà per il sistema sanitario nazionale, per le criticità che conosciamo, mette il focus sul nuovo ruolo del medico di medicina generale, alla luce anche delle novità tecnologiche, dell'intelligenza artificiale e di nuovi farmaci che si possono utilizzare in alcune patologie anche croniche. È un congresso strutturato principalmente sulla formazione, formazione che è il pilastro della nostra professione, che appunto ci permetterà di cavalcare l'onda del cambiamento che sta travolgendo la medicina generale, un po' tutti i settori, ma la medicina generale in particolar modo, come protagonisti e non come spettatori. Durante il congresso si è anche affrontato il tema del ricambio generazionale che sta avvenendo in questi anni. A regime questo cambio generazionale finirà verso il 2029, quindi ancora attendiamo un altro 30% o 35% di nuove eleve che rientrano. Dov'è il punto fondamentale? E' che dobbiamo far sì che tutti questi colleghi, fra loro e con gli altri professionisti della salute, possano integrarsi, possono incominciare a parlare un linguaggio comune che è funzionale alla trasformazione digitale. Trasformazione digitale non significa avere computer a disposizione, avere informatica, va a far sì che le informazioni debbano circolare. Per circolare ci vuole un nuovo modello culturale che fa sì che quando tu lavori non c'è soltanto il rapporto fra te e il tuo paziente, ma devi pensare che quelle informazioni saranno lette e serviranno ad altre persone. Questa è l'essenza, questa riforma che abbiamo sul territorio. E' fondamentale. Pochi minuti di pausa per noi, torniamo tra poco con tutte le altre notizie. Scure sui comuni siciliani, sono 147 gli enti che sono stati commissariati per la mancata approvazione del bilancio di previsione 2024-2026. Ovazione per allevi, il maestro compositore ha incantato Palermo con il suo concerto a Palazzo Reale. L'ultima della stagione, parliamo di sport. Domani il Trapani chiuderà l'annata alla ricerca del triplete. In palio il titolo di campione d'Italia serie D contro il Campobasso. Ancora ben trovati con l'informazione di Telesud, commissariati 147 comuni siciliani che non hanno approvato il bilancio previsionale 2024-2026. Sono 147 comuni siciliani che non hanno approvato il bilancio di previsione 2024-2026. è che la regione Sicilia ha adesso commissariato. A firmare provvedimenti di nomina dei commissari è stato l'assessore regionale Andrea Messina. I commissari in pratica dovranno provvedere a far adottare lo strumento di programmazione economica, insomma un intervento sostitutivo della regione che risulta essere necessario e obbligatorio. E tra questi comuni risulta anche Trapani, nonostante il bilancio di previsione 2024-2026, sia stato approvato il Consiglio Comunale proprio qualche giorno fa. In teoria dunque Trapani non dovrebbe rientrare tra i comuni commissariati, come invece ha fatto sapere la regione siciliana e il provvedimento a firma dell'assessore Messina. La giunta tranquida però non ci sta e l'assessore al bilancio Alberto Mazzeo ha replicato alla scelta del governo regionale. Appare farneticante la decisione maldestra dell'assessorato regionale alle autonomie locali della funzione pubblica che indica fra gli enti locali commissariati il comune di Trapani, ha detto Mazzeo. Ancora più scellerata appare tale distrazione in quanto al commissario è dovuta un'indenità di carica nonché il rimborso delle spese di trasferta che dovrebbero gravare sulle tasche dei cittadini trapanesi. Ci auguriamo che l'assessorato, rendendosi conto della svista totalmente errata, revochi in autotutela tempestivamente la nomina commissariale. Italia, Austria e Germania collaboreranno per una rete di idrogeno che parte dalla Sicilia, fondamentale per la decarbonizzazione europea previsto entro il 2030. Una rete di oltre 3.000 km di gasdotti riconvertiti al passaggio dell'idrogeno per collegare il Nord Africa, prima con l'Italia e poi con Austria e Germania attraverso l'energia verde. Questo è l'ambizioso progetto denominato Corridoio South H2, che mira a creare una dorsale europea dell'idrogeno, facilitando il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione dell'Unione Europea. A margine del Consiglio Energia a Bruxelles, la città di Roma, Vienna e Berlino hanno suggellato l'intesa firmando una dichiarazione di intenti per lo sviluppo del Corridoio Meridionale dell'idrogeno. Questo progetto prevede che l'idrogeno rinnovabile è prodotto principalmente in Nord Africa, transiti attraverso la Sicilia, risalendo poi la penisola italiana per raggiungere Austria e Germania. L'obiettivo è contribuire all'importazione di 10 milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile entro il 2030, in linea con il Maxi Piano Energetico Repower EU. Il Corridoio South H2 è stato recentemente incluso nell'elenco delle opere di interesse comune, PCI, dell'UE, che ne riconosce il ruolo cruciale per trasportare idrogeno verso le aree industriali europee, sostenendo la loro decarbonizzazione. Cadry Simpson, commissaria per l'energia, ha sottolineato l'importanza del progetto per rafforzare i rapporti con i partner del Nord Africa. Il progetto utilizzerà in gran parte le infrastrutture esistenti, con la possibilità di costruirne di nuove se necessario. Le quattro infrastrutture portanti del Corridoio saranno gestite da altrettanti operatori del sistema di trasmissione, SNAM in Italia. L'intera infrastruttura, secondo le stime, sarà operativa già nel 2030, con una capacità di importazione di 4 milioni di tonnellate all'anno dal Nord Africa, coprendo il 40% dell'obiettivo di importazione fissato da Repower EU. Giovanni Allevi incanta Palermo, il maestro compositore ha fatto tappa nel capologo di Legione in occasione del suo tour. Ogni suo brano è accolto da un'ovazione, ogni sua riflessione sulla vita vissuta e sulla concezione della musica ipnotizza il pubblico. Palazzo Reale a Palermo è rimasto ammaliato dinanzi al maestro Giovanni Allevi, che ha accompagnato il tramonto palermitano con le sue composizioni e le narrazioni di un'esistenza attraversata dalle gioie di una carriera folgorante. E poi il maestro Allevi torna a parlare della malattia che lo ha bloccato per un po' di tempo. Sì, ho due vertebre fratturate, collassate, si sono schiacciate. Però? Certo, suonare il pianoforte con un dolore alla schiena così, così, sapendo che tra l'altro si tratta di un dolore cronico che probabilmente non andrà mai via. Però mi sono accorto che non è stato quello il problema principale, il problema principale è stato il tremore alle mani. Bisogna immaginare una situazione positiva per inganare il cervello, dice Allevi, che suona in canto a tutto il pubblico presente. Ad accogliere Allevi e, nelle veste di padrone di casa, il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno. Con noi abbiamo un artista che va ascoltato non solo in senso artistico, ma per tutto quello che gli ha offerto la vita, ha detto Galvagno. La biblioteca personale dell'archeologo Vincenzo Tusa sarà donata al Parco di Selinunte. Il Parco archeologico di Selinunte riceverà un'inestimabile donazione, la biblioteca personale dell'archeologo Vincenzo Tusa, composta da 54.000 volumi. L'annuncio è stato fatto da Felice Crescente, direttore del Parco archeologico di Selinunte, segnando un momento significativo per la comunità scientifica e culturale. Lidia Tusa, unica figlia rimasta di Vincenzo Tusa e Aldina Cutroni, ha deciso infatti di donare la vasta collezione di libri del padre al Parco archeologico di Selinunte. La decisione arriva dopo la scomparsa del fratello Sebastiano, avvenuta l'11 aprile 2018. I volumi troveranno la collocazione in un ampio soppalco del Baio Florio, sopra i laboratori di restauro utilizzati durante tutto l'anno. Il rapporto tra Vincenzo Tusa e Selinunte è stato profondo e duraturo, sia a livello professionale che personale. Le spoglie di Tusa e della sua famiglia riposano infatti vicino alla casa del viaggiatore a Selinunte, simbolo tangibile del legame con questo luogo. Vincenzo Tusa trascorreva regolarmente le vacanze a Selinunte con la moglie e i figli, unendo così il lavoro all'affetto familiare. Vincenzo Tusa ha avuto un ruolo chiave nella creazione dell'attuale Parco di Selinunte e nella promozione della ricerca archeologica in Sicilia. È stato docente di antichità puniche presso la Facoltà di Lettere dell'Università di Palermo e ha ricoperto l'incarico di soprintendente a beni archeologici della Sicilia occidentale. Durante la sua carriera ha avviato la costituzione di altri importanti parchi archeologici come Segesta, Lilibeo e l'area archeologica delle cave di Cusa. La donazione della biblioteca di Vincenzo Tusa non solo arricchirà il patrimonio culturale del Parco archeologico di Selinunte, ma rappresenterà anche una risorsa preziosa per studiosi e appassionati di archeologia. E per gli appuntamenti sulla nostra emittente questa sera alle 19.40 e replica alle 22.40 trasmetteremo il nostro magazine. Tra pochissimo lo sport. Partiamo con la finestra sportiva parlando di beach soccer perché a partire da venerdì 21 giugno al via Sabbie di Sicilia, il primo campionato proprio di beach soccer regionale di Serie B che toccherà anche la spiaggia di San Vito Lo Capo. Andiamo a vedere i dettagli nel servizio. Cresce l'attesa per Sabbie di Sicilia, il primo campionato di beach soccer regionale di Serie B. Si partirà ufficialmente con la tappa di Messina a Capo Peloro dal 21 al 23 giugno. La manifestazione passerà per San Vito Lo Capo dal 12 al 14 luglio, salvo poi spostarsi prima a Marina di Modica a fine luglio e infine a Marina di Ragusa dal 9 all'11 agosto. Ad ogni tappa scenderanno in campo otto squadre maschili e quattro femminili. C'è stato un grande impegno ma c'è ancora un grande impegno perché siamo nella fase organizzativa, è la prima volta che ci confrontiamo con una manifestazione così complessa, il campionato di Serie B organizzato in quattro tappe, una a Messina, una a Marina di Modica, una a San Vito Lo Capo e le finali a Marina di Ragusa. È veramente un grande impegno per il Comitato regionale perché vogliamo non soltanto fare l'attività sportiva ma vogliamo anche promuovere le nostre sabbie, ecco perché si chiama sabbie di Sicilia, le nostre spiagge, il nostro territorio, il nostro mare, i nostri beni culturali. Abbiamo quindi questo grande obiettivo. Penso che la Sicilia sia particolarmente evocata, quindi siamo impegnati, abbiamo la partecipazione anche di Telesud che ci aiuterà a promuovere questa manifestazione e io credo che questo ulteriore impegno del Comitato Sicilia nella promozione del Beach Soccer alla fine ci prepari per il grande evento che un altro anno coinvolgerà tutta la Sicilia e cioè il torneo delle regioni organizzato in Sicilia con la partecipazione ad eventi in comitati regionali. Sarà un grande impegno per tutti noi, una grande vetrina per la Sicilia. E domani alle 18 allo stadio Carlo Zecchini di Grosseto, la finale di Pool Scudetto serie di tra Campobasso e Trapani. Questa mattina Alfio Torrisi è intervenuto in conferenza stampa. Vigilia dell'ultima partita stagionale dell'FC Trapani in 1905. Match decisivo perché Granata in caso di successo potrebbero centrare uno storico triplete dopo la vittoria in campionato e della Coppa Italia di categoria. In programma la finale di Pool Scudetto contro il Campobasso, vincitore del girone F di serie D. Una speed affascinante, un bel evento in cui abbiamo l'onore di partecipare e quindi siamo consapevoli dell'importanza della gara, del fascino. Cercheremo di onorare al meglio, come abbiamo sempre fatto, tutte le competizioni, in particolar modo questa finalissima. Potrebbe essere la chiusura di una stagione che diventerebbe, oltre che straordinaria, penso irripetibile. Sappiamo il fascino, già solo apro lo scudetto, a prescindere che sia uno scudetto di serie D, però sicuramente è qualcosa di bello, di insolito soprattutto. e quindi intanto già partecipare a questo evento, ripeto, è qualcosa che deve renderci a tutti orgogliosi, squadra, staff, società, ambiente. Queste sono le cose che penso devono essere, che vanno esaltate. Poi andremo lì, come sempre, per cercare di portare il risultato alla nostra parte. Siamo al 15 di giugno e quindi è normale che non possiamo stare benissimo, ma come penso noi, gli altri. Anche se il campo basso, comunque, visto nelle ultime partite, ha dimostrato una buona performance, una buona tenuta fisica. Dobbiamo stare bene con la mente. Questo è una partita dove, nonostante tutto, serve struttura mentale. Questa è una squadra che ha giocatori importantissimi sotto questo punto di vista, con storicità importante. Di fronte abbiamo un avversario forte, lo sappiamo, che ha dimostrato il suo valore durante tutta la stagione. Speriamo che sia una bella sfida, perché saranno in tanti a guardarci. Speriamo di dare uno spettacolo degno della competizione e del trofeo che ci andremo a giocare. E a proposito degli appuntamenti sportivi, domani sarà anche la giornata dello slalom dell'agroericino, giunto alla sua ventiduesima edizione. È tutto pronto per il ventiduesimo slalom dell'agroericino. Domani, a partire dalle 10, si svolgerà a lungo il percorso della cronoscalata Monterice, la quarta taffa del campionato italiano slalom e gara valida per il campionato siciliano con coefficiente 1.5, organizzato dal promoter Chinesia con il patrocinio della federazione AC Sport del libero consorzio comunale di Trapani dei comuni di Erice e Valderice. Saranno 122 i piloti pronti a sfidarsi. Le verifiche sportive e tecniche si svolgono oggi nella zona pedonale di Lido-Valderice. Il tracciato della lunghezza di 4 chilometri vedrà in pista, tra le altre, scuderie come R.O. Racing, Armanno Corse, Trapani Corse, La Drepanum Corse Scuderia Venanzio, Catania Corse, Misilmeri Racing, Piloti per Passione, Puntese Corse, Giarre Corse, Nebrodi Racing e Scuderia Spromonte. Lo spettacolo è assicurato con un ampio mix di auto dai prototipi E2 ai silhouette, passando per le bicilindriche fino alle auto di serie. La strada provinciale Valderice-Erice parte del tracciato di gara fino al bivio di Martogna sarà chiusa dal traffico dalle 7.30 alle 15.30. Inoltre dalle 12 alle 15.30 sarà vietata la circolazione e la sosta su Viale Porta Spada, adibito a parco chiuso per le auto da competizione. Queste misure permetteranno un regolare svolgimento della gara, garantendo la sicurezza di tutti. Il rinnovamento della sanità e il PNRR nella medicina generale. Ne abbiamo parlato con il dottor Riccardo Scoglio, presidente del congresso che si sta svolgendo a Trapani in questi giorni e questo è il nostro approfondimento di oggi. La Sicilia si propone a livello nazionale come modello per il rinnovamento della sanità e lo fa con un salto in avanti nella digitalizzazione e con un ampio ricambio generazionale nella medicina generale. Questo è uno dei messaggi che lancia la Società Italiana di Medicina Generale delle Cure Primarie in occasione del XIX congresso regionale che si è tenuto presso il polo universitario di Trapani in questi due giorni. Questo è un momento sicuramente importante e rivoluzionario perché la Sicilia storicamente ha rappresentato una sede, una localizzazione in cui l'integrazione e lo sviluppo dei processi evolutivi della sanità sono stati sempre sviluppati in maniera molto integrativa. Essenzialmente la Sicilia è stata pioniera dello sviluppo di tanta tecnologia. Tra le prime regioni in Italia a sviluppare la ricetta dei materializzati rappresenta uno strumento di evoluzione, di comunicazione e di sfruttamento di quelli che sono tutti i canali comunicativi con i nostri pazienti e questo rappresenta un'opportunità ulteriore nell'obiettivo e nella definizione del nostro evento per poter approfondire tematiche in cui la nostra regione sicuramente rappresenta un'opportunità e un contesto in cui si sviluppa questa situazione. Due giorni importanti qui a Trapani. Quali sono gli obiettivi di questo congresso? Trapani che ringrazio Città Bellissia ci ha dato l'opportunità di poter realizzare un momento di condivisione con il gruppo dei medici di famiglia di tutta la Sicilia e Simone ha l'obiettivo essenzialmente di rappresentare quelle che sono le finalità della nostra società scientifica, quindi condivisione degli aspetti culturali, formativi, professionali, opportunità di crescere con dei format didattici che consentono un po' di dare quegli strumenti che oggi risultano indispensabili. In particolare il problema della tecnologia e della trasformazione digitale che un po' i temi che abbiamo trattato nel nostro convegno sono stati oggetto della tavola rotonda rappresentano delle occasioni con cui diamo dimostrazione che opportunamente formati e integrati i nostri medici saranno nelle condizioni di cavalcare quello che è lo sviluppo futuro della nostra società scientifica e della nostra attività professionale. Parliamo del PNRR, è importante per la medicina generale, in che modo? Il PNRR è sempre una scommessa con tanti punti dubbi che stiamo cercando di appianare ed applicare nella nostra attività. È un momento chiaramente irreversibile su cui dobbiamo integrarci, dando l'opportunità anche alla medicina generale sia in qualche modo consapevole di quelle che sono le tematiche, le esigenze del territorio. In questo senso ci sono una serie di opportunità che il PNRR fornisce con degli investimenti sul fascicolo sanitario, rappresentano lo strumento nostro e della nostra popolazione con cui possiamo comunicare digitalmente, investimenti sulla realizzazione di piattaforme di telemedicina che rappresentano un momento di comunicazione oggi sicuramente importante per la nostra pratica. Quindi ci fornisce le opportunità che vanno applicate con delle condizioni realmente vantagevoli per i nostri pazienti, per la nostra comunità sanitaria e che siano in qualche modo frutto di una collaborazione e di una gestione quanto mai finalizzata a quelli che sono gli obiettivi che dobbiamo raggiungere.